Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con l'informazione locale. Il sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, si è dimesso ieri pomeriggio, dopo che nei giorni precedenti aveva azzerato l'aggiunta. Nessuna risoluzione della crisi politica, almeno non per ora. Il primo cittadino ha messo nero su bianco le motivazioni di tale scelta, lanciando anche un appello a tutte le forze politiche. Ascoltiamo la voce proprio del sindaco dimissionario, Fargiorgio. Ma io più ci penso e più ritengo che in realtà non ci siano ragioni di carattere politico che debbano portare alla fine di questa esperienza amministrativa, è per giunta quattro mesi dalle elezioni. Noi abbiamo un bilancio che è solido, è già pronto, che può essere sicuramente approvato, come è in corso di formazione, non rendi conto, da cui si libereranno una serie di risorse. Ieri l'annuncio delle bandiere blu 2021, sette quelle pontine che ottengono il prestigioso vessillo che certifica qualità delle acque e servizi nella bannazione. I comuni premiati in provincia di Latina sono Ventotene, Gaeta, Sperlonga e Terracina, ma anche San Felice Circeo, Sabaudi e Latina. La cerimonia di consegna avverrà tramite Facebook il prossimo 10 maggio. Per le spiagge del sud pontino ad essere certificate con la bandiera blu ci sono Calanave a Ventotene, Arenauta, Ariana e Sant'Agostino insieme a Serapo in quel di Gaeta, Lago Lungo, Bazzano, Ponente e Levante per quanto riguarda Sperlonga e Levante e Ponente a Terracina. La badante si spaccia per la donna di cui si prende cura per farsi inoculare il vaccino anti-covid, ma il raggiro avviene solo in parte. La donna di 59 anni, dopo essere riuscita a trarre in inganno il personale medico al centro vaccini di Formia, infatti a seguito di verifiche è stata denunciata a piede libero dai carabinieri del posto. La badante dovrà adesso rispondere del reato di sostituzione di persona. Covid-19 e i numeri di ieri, come quelli di ogni lunedì, hanno evidenziato un calo considerevole su tutti gli indicatori da quello dei positivi al nuovo coronavirus, tornati addirittura sotto le 100 unità pari a 72 nuovi casi, di cui 32 nel sud pontino confondi che da sola ne registra ancora 15. Passando addirittura al dato dei vaccini somministrati, 1822 le inoculazioni in un solo giorno, positivo il fatto che vengano registrati ancora zero decessi, 62 le persone guarite, 10 i ricoveri. Prosegue tra l'altro lo screening di massa sulla comunità indiana in Terra Pontina, mentre dallo Spallanzani hanno fatto sapere di non aver isolato alcuna positività alla temuta variante indiana tra i test provinciali. Sul piano vaccini, ieri nel Lazio è stata superata quota 2 milioni di somministrazioni. In regione si può affermare che una persona su tre ha già ricevuto almeno una dose di vaccino. Tra l'altro dalla mezzanotte è attiva la prenotazione online sul portale Salute Lazio per la fascia di età 57-56 anni, ovvero i nati nel 1964 e nel 1965. Si muove la politica a formia in vista delle elezioni del prossimo settembre. Nella giornata di ieri due distinti comunicati stampa hanno contribuito ad aggiornare il quadro degli schieramenti in campo e la possibilità della formazione di coalizioni. A sostegno del neocandidato sindaco Amato Lamura è arrivato il sostegno dei centristi dell'Unione di Centro, mentre non parlano ancora di candidato sindaco ma hanno raggiunto un accordo programmatico il Movimento 5 Stelle e la Civica, un'altra città molto vicina all'ex sindaco Paola Villa. Questa era la nostra ultima notizia, prima di salutarci vi ricordiamo che potete trovare sul nostro sito web radiocivitemblue.it diverse altre news. Un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del Giornale Radio.